buongiorno buongiorno ci siamo ci siamo oggi un po di attività fisica prima di iniziare la giornata perché chi è come me che ha mangiato come un bufalo alzi la mano ora quindi alzatela tutti perché comunque che sia perfetta la vostra pasquetta costile con rispetto alla voce c'è carletto ok ci sei 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 e se sei un coccodrillo dillo forza belli carichi anche oggi let's go andiamo ci siamo sulla magia sto cazzo no buongiorno ecco la donna maria eh buongiorno è pasquetta oggi eh ma tu cosa sento entri qui guarda vai via e quando c'è 82 anni ce l'hai anche tu la guarda c'è bella vabbè la maria donna eccola guarda fermati ah va via via come va via perché perché voglio lei va via le corne del va via va via di qui dentro ma che corne voglio vedere va via perché perché no quella persona che non l'ha nominato l'innominato fammi il letto giusto mi volevo stemmi un po' che ho fatto un letto guarda che ho messo ho fatto lo sciogamano e questo cos'è una olf eh fermati a dirò poco fermati io la faccio manca tanto la tavoletta eh fa sentire un po' fermati eh com'è arcuminci con sta tavoletta e certo perché è pasquetta viva la tavoletta si è volato tutto no apriamo un po' il finestrino fermati testo di cazzo e vedi l'acqua oh fa fa il bagno eh uno un po' fermati un po' fermati un pochino l'acqua beh apri la parte tua pochino dai non è di ovovo ma spira fermati fermati che me li hai da aspirare fammela fermati che tu mi serve perchè fa? per... fermati fermati Dio cazzo t'aspiro che hanno tipo guarda che aspiro no 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 bambino fermati testa testa che buono sto volati comunque io ho visto che è ora di pranzo a pasquetta sono sempre abituato a mangiare un po' di pesce diretta da me abituato a mangiare un po' di figa maaa e quella è buona altro che il vede chi ha il sottopaglio calciala dietro fammelo toccare mamma mia come scalcia è indomabile lo scalciador 50 grammi è bene guardali quanti so secondo te secondo voi quanti so se ne vuoi pesare secondo me sono un po' più ma vabbè sta nevicando diversamente è neve gialla deserta del Sahara guardate anche col dito doppio ritrito guarda guarda eh ma quanto scocci i coglioni ah lamento live tira su e poi arzuche o arzuche o arzuche carzuche questo non è cosa dormivo? ma che dormi? ma stai dormito? ma che dormi? riposo gli occhi ma dormivo o no? ma che? vieni con quell'affaro a spaurare la gara ma dormivo? sei un o no? ma che dormivo? che dormivo? va sul lettino nevete andiamo sul lettino ah che seppia ti fa il pennello mettere manco il pennello ma qui? qui è così giù c'entra la faccia com'è sta sessione? balletta tip up deve piove tu zio è un grande eh? tu zio è un grande è davvero sto pistino top stai giocando a nascondino? eh? conta conta io mi vuoi a nascondi via questa si sta secondo voi questo in roccia a sto giro ti metto mai addosso eh? sto giro ti metto mai addosso ci sarebbe bene a casa mia guardate che bella roccia questa è una roccia arrocciata eh sono invece un bel sassolino un pezzo del muro di berlino originale quell'idioto eh beh diccio Germania ha vinto l'anno scorso ah questo è l'anno scorso? potrei anche rubarlo io eh faccio un po' le forze l'uomo che ha preso tu era ai virali arabi bellissimo rubarlo o non rubarlo questo è il dilemma se rubarlo è meglio di non rubarlo non rubarlo è meglio che rubarlo? questo è il problema su prendi sto lampadario come regalo oggi oggi sembravi sembravi bravo un motocross sembravo bravo come regalo non ti hai ascoltato hai imparato scontrino leve volume numero 3 della rivista motocross oh questo è il mio impari qualcosa c'è pure guida per i dilettanti bello questo non mi fa qualcosa col cross però eh giro per il mondo vuoi cross quella rivista a mano lezione numero 1 non devi g per terra c'è scritto e se sei incerto tieni aperto chi lo dice? quel ragazzino che ancora si diverte parecchio non so toni tonino coccodrilli ho appena postato il video dell'apertura dell'uovo un bel video pasquale per voi fate swipe up pap 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 ieri era arrabbiatissimo il nonno quando l'ho fatto andate a vedere swipe no ho preso eh non ho preso vai vuoi? non lo mangi un po' di to o no dai no che è questo? non lo è che è? non lo è che è? è il ciuccio vuoi? perché? perché ne ho assaggiano in pezzettino ma tu fanno mangiare la parte grazie lucone sushi top non lo vuole un pochino nonna eh? guardami un po' eh sì eh mangi un po' di sushi to oh assaggialo 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 assaggia il sushi l'erdo di coglione ah no non lo vuole un po' di queste mia assaggialo ma mangi un po' di sushi la no ah vattene di coglione io non la mangio sta roba ma perché? perché no io mangio la roba italiana eh questo è italiano parli ma ne ho mangiato anche la parte no dai dico oh è vero ti dico io mannaggia bravo no no ma c'era il saggio lui può fare io ma è fanculo era bello l'accompagnamento del flauto guarda che stai guarda oh vattene no mi dispiace sta cosa c'era la vena musicale incredibile non si rompe ecco la mia sorellina comunque non ci assomigliamo per niente grazie grazie i colori di verde ma secondo me tu sei la mia sorellina bollo bollo bollo